Stefano Revisore Revisore Ma sei down? Hai la 104? Quante volte ho sentito queste espressioni dispregiative, discriminanti? Perché, appunto, io vivo in maniera indiretta la neurodiversità e per chi la vive sono macigni sul cuore. Quindi, spesso mi sono chiesto come mai abbiamo questi atteggiamenti discriminatori e perché è importante parlare un linguaggio inclusivo. Innanzitutto, per partire, è importante capire che tutti i nostri comportamenti hanno un'influenza negli altri, quindi non ci sono comportamenti neutri. Alcune espressioni dispregiative, tipo handicappato, dislessico, mongoloide, cosa vanno a fare? Vanno a far coincidere, oltre ad essere orribili, vanno a far coincidere quella che è soltanto una parte di quella persona nel tutto. Quindi, diventano oppressive. E state tranquilli. Comunque, anche nella legge 104, che tutela i diritti delle persone con disabilità, c'è scritto persone handicappate, quindi bisogna aggiornarsi tutti insieme. E no, sarebbe meglio dire persona con disabilità, persona con disturbo mentale, ma non è un processo semplice. Infatti, è un processo collettivo, perché questi errori derivano dall'abilismo, che è una mentalità che è stata vigente fino a questo momento, in cui si presuppone che tutti abbiano dei corpi abili. E chi non ha un corpo abile, allora ha un difetto. E la diversità non viene considerata una varietà umana, ma appunto qualcosa di negativo. Io stesso ho fatto fatica a guardare oltre i limiti di mio fratello, proprio perché i limiti sono un muro contro cui ti scontri, perché sono la prima cosa che vedi. E quindi è difficile andare oltre quell'apparenza. Ma una volta che sono riuscito a farlo, mi si è aperto un mondo. Immaginate anche la parola ritardato. Ritardato deriva proprio da questo. In ritardo rispetto a cosa? La normalità è quindi, dovete immaginare che è una linea fittizia che attraversa tantissimi punti, puntini sopra e sotto, distribuiti a caso, che sono tutte le anormalità. E noi abbiamo creato questa linea per poter dire chi è sopra e chi è sotto. Ce lo spiega molto bene Victor Hugo in L'uomo che ride, dove il personaggio, che poi ha dato origine al personaggio di Joker che forse conoscete, è stato sfigurato quando era bambino con un sorriso inciso da un coltello da parte a parte, ed è stato fatto per esporlo al pubblico ludibrio in degli spettacoli circensi. Allora questo personaggio a un certo punto si confronta con i Lord e dice che siamo tutti uguali, dice sostanzialmente in quel discorso finale. Cioè la differenza tra chi opprime e chi è oppresso è soltanto la posizione che occupa. Lui dice Io sono un mostro? No. Io sono il popolo. Io sono un'eccezione? No. Sono come chiunque. Voi siete l'eccezione. Voi siete la chimera. Io sono la realtà. Per capire dove siamo è importante fare un passo indietro, capire da dove siamo venuti. E brevemente per darvi un'immagine, una sensazione ecco, di come si poteva vivere la neurodiversità anche nei secoli precedenti, mi riferisco alla nave dei folli che è poi stata ripresa anche da Michel Foucault e analizzata ed era questo battello che veniva, come dire, in cui si ospitavano delle persone considerate non sane di mente e poi il battello prendeva a largo e forse era anche l'ultimo viaggio perché il mare, l'abisso, insomma, con le sue pericolosità può facilmente trarre in inganno. E quindi il Michel Foucault lo analizza non soltanto come un modo per allontanare la follia per non averla in casa ma anche come una rappresentazione della paura che il genere umano ha spesso, sempre, avuto nei confronti di chi è diverso, di chi appare come diverso o misterioso. E allora, poi dobbiamo considerare che, molto velocemente, poi nel novecento c'è stato il secolo della svolta, c'è stata in Italia la legge Basaglia, nel 78 c'è stata la legge 104 e quindi le cose sono cambiate. Si è passata dalle scuole speciali che, insomma, escludono a, invece, l'integrazione scolastica. Si è passato da una mentalità che relega le persone con disabilità negli istituti, nelle famiglie a un percorso di inserimento lavorativo. Le cose sono cambiate, c'è ancora molto da fare, sì, ma siamo sulla strada giusta. e chi è che ce l'ha detto questo? Chi è che ha chiesto davvero questo cambiamento? Lo hanno fatto le persone che lo vivono, lo ha fatto la società e quindi i Disability Pride, che negli ultimi anni hanno portato in piazza, nelle strade, un moto di orgoglio, di rabbia, di riscossa, ma soprattutto di orgoglio di essere visti, di essere guardati in modo diverso, di chiedere pari opportunità. e quindi il progresso, il progresso fa fatica ad attecchire, perché costa, e quindi molte volte a integrare il processo si fa un po' più fatica, perché si fa presto a guardare dall'altra parte, quindi non per incapacità di risolvere il problema, ma perché è più facile guardare dall'altra parte. un po' come con i limiti, è più facile guardare ai limiti degli altri, piuttosto che guardare ai nostri, guardare dentro il nostro abisso. E quindi, allora, adesso siamo davvero in un momento di cambiamento, ve lo posso assicurare, e si capisce anche analizzando quelli che sono stati i cambiamenti del passato, come la protesta di Martin Luther King, la marcia su Washington, il famoso discorso I have a dream that one day my nation will rise up. One day, quel one day rappresenta il futuro, quindi rappresenta una prospettiva lontana, e si usa infatti la parola will, ma in realtà la società non dice il futuro, la società testimoniando la sua presenza in massa alla protesta, dice il futuro è oggi, non è un giorno. Quindi, la minoranza ci ha chiesto un cambiamento, spesso non rappresentata la minoranza, e oggi noi siamo tenuti, secondo me, a cambiare, a innovarci, a cambiare modo di parlare e di guardare la diversità. E cosa succede se non lo facciamo? E rispondiamo quindi all'inizio, perché è importante avere un linguaggio inclusivo. Allora, diciamo che se noi non ci consideriamo delle persone violente, verbalmente violente, ma non ci poniamo tutte queste questioni, rischiamo di essere delle eco stanche di antichi pregiudizi. Il linguaggio scorretto, infatti, si può paragonare alle cozze, cioè rimane attaccato allo scoglio fino a che non viene strappato con violenza. E lo dice bene Gramsci con la famosissima frase l'indifferenza opera nella storia, opera passivamente, ma opera. È la materia brutta che strozza l'intelligenza. Quindi, diciamo che siccome si dice dimmi quello che mangi e ti dirò chi sei, noi possiamo dire fammi vedere come parli e ti dirò chi sei. Questo anche per chi vive la diversità, per chi vive la disabilità in prima persona. riguarda tutti. Perché in quel caso è importante non spettacolarizzare il dolore, non essere melensi e quindi non, diciamo, respingere gli altri o avere un tornaconto con questo. Qualcuno potrebbe dire ma non si può più dire niente. Ma chi dice così è perché vive in una gerarchia che fa comodo a quella persona e quindi non la vuole cambiare. Le parole non sono soltanto parole. Le parole sono reali come, sappiamo bene, l'immagine che ci ha dato Orwell, che se si rimuove la parola libertà dal vocabolario allora anche i cittadini perdono quella nozione, perdono quel concetto. Quindi le parole creano uno spazio reale, il linguaggio inclusivo crea uno spazio reale, salvifico, privo di vergogne, timori, paure, pregiudizi in cui l'altro può esprimersi nella sua totale individualità. Questa cosa è reale. quindi io davvero penso che la diversità sia una ricchezza. L'ho vissuto sulla mia pelle, con la mia esperienza, conoscere mio fratello mi ha dato tanto e se io mi fissavo sui limiti, se io ero appunto discriminatorio in questi confronti mi sarei privato di quel confronto. La diversità in generale è un arricchimento. Bisogna cambiare punto di vista. Non bisogna pensare di fare qualcosa perché ce lo impone la società il cambiamento e annoiarsi di questo. No, è il contrario. È un arricchimento, è un vantaggio. Scoprire mondi diversi ti permette anche di scoprire meglio il tuo di mondo, la tua interiorità. C'è una frase bellissima che ho orrigliato dalle lezioni di filosofia della mia fidanzata di Levinas che dice l'altro ci riguarda non perché è come me ma perché mi parla. La sua parola è un appello all'uscire da me stesso e aprirmi all'incontro. Nell'incontro, nella verità dell'incontro si rivela l'umanità dell'essere, la sua vulnerabilità. Quindi anche ci aiuta ad uscire dal nostro narcisismo patologico potenziale che abbiamo. E quindi quello che volevo comunicarvi è proprio questo che non dobbiamo pensare di aver capito la diversità ma dobbiamo metterci in moto. È una sfida, è un allenamento. sapete perché? Perché la diversità è volatile, cambia, mutevole, è costantemente diversa, appunto. Scusate il gioco di parole. Però noi non possiamo pensare di essere arrivati. Quindi dobbiamo sempre essere, è più che altro una predisposizione d'animo quella che è il mio augurio, ecco. e se qualcuno o qualcuno insomma fa dei pregiudizi ha degli atteggiamenti discriminatori nei confronti di chi è diverso che cosa dobbiamo fare? Io vi propongo di essere come i cavalieri erranti che con la loro forza proteggono chi è più debole e chi non si può proteggere da solo. e quindi seguendo questa figura del Don Quixote noi dovremmo cercare, sì, insomma, di smontare il pensiero discriminatorio magari anche con ironia all'inizio semplicemente facendo una battuta dicendo sei fuori da ogni logica provando a capire se c'è un terreno in cui fare una discussione. e comunque state tranquilli che non sarete come Don Quixote che era fuori dal tempo perché ha vissuto in un'epoca in cui la cavalleria ormai era finita state tranquilli che se sarete cavalieri erranti siete dentro il vostro tempo. grazie grazie grazie